ok perfetto ragazzi allora siamo al terzo terzo episodio di batman arkham city nello scorso episodio ho avuto diversi diversi problemi con con il visore causati da una malposizione della della camera quindi se anche a voi vi dovesse succedere lo stesso problema che succedeva a me e non vi preoccupate io era andato un po del panico meranke vera anche il nervosito non nel panico mer semplicemente il nervosito non lo fate anche voi ma posiziona semplicemente la telecamera un po più alta ad altezza ad altezza vostra io avevo bassa e girata verso l'alto e quindi c'è caso che appunto dava dava un po di problemi riposizionando la telecamera a quell'altezza e ricalibrando un po tutto quanto si si risolve un po si risolve un po si risolve non un po si risolve totalmente infatti ho preso subito la chiave ho aperto anche subito il nome non mi viene in mente come come si chiama questo non un bar a vivere bar e niente la cella frigorifera ecco semplice in cui in cui stava finnes si chiama lui fin toni fin esatto e stava fin e quindi è cominciata a partire tutto la messa in piega del del detonatore quindi perfetto siamo esattamente al solito punto io sto usando un'altra telecamera proviamo un po vedere sembra che tutto quanto sia registrando correttamente e quindi andiamo quindi vedete non non c'ho problemi non c'è nessun tipo di problema a prendere tutti quanti gli oggetti infatti ok perfettamente ottimo allora cominciamo a montare a montare il detonatore quindi questo qui fatto questo serve stare così no forse troppo forse un po troppo vicino adesso ma è no e mi sembra forse questo no ok questi dovrebbero stare così ottimo e questo perfetto così questo a parer mio dovrebbe stare qua ottimo e questo così perfetto benissimo oh bene sono molto più contento sono veramente un vecchio rete formissime assolutamente forse l'assassino si lo sconde nelle formi se punti che scanne su quest'area questi regolamenti trasmettono il birobin trappola trappola stai rimando il tim perfetto quindi possiamo vibrare tutto ah ok perfetto sono curioso di vedere se c'è qualche solta di combattimento non credo assolutamente ci siano combattimenti perché risulterebbero un po strani ah sono arrivati con la macchina la ruota arriva tipo qua ottimo allora le fogne noi non possiamo fare niente se non se non andare avanti e quindi andremo avanti andiamo scanner qualche tipo possiamo vedere qualche cosa li passa una persona va bene entriamo ci mancava lui ci mancava ci mancava si cosa ho 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 ok ok 6 se la trappola andiamo andiamo addosso la trappola sono intrapolato in due eccoci qua la sensazione è forte sembra di stare veramente in trappola e in gabbia Robin numero 3 dobbiamo uscire da qui eh usciamo la freccia indica indica Robin che cosa c'è ah il mantello il mantello di Robin ok ci sono dei ingranaggi un po' di scritta te ti sparaflescio la luce non ti fa nulla peccato ok allora vediamo se si riesce a trovare qualche indizio in giro prima di azionare questi interruttori va bene non c'è niente quindi si aprirà eh si aprirà esce un po' di fumo bello il fumo eh vedo che non funziona però bravo 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 eh questo è un fusibile rotto l'uomo atto per un solo e troppo poco pochi un po' di numeri Questa cosa si fa, non ha potere. Ah, questo può essere già lì qua, non troppo. Ah ok, l'ha messo lì. Va bene, e... Qui ci sono un po' di numeri. Eh, lo vedo. A uguale 10, B uguale 20, C uguale 15. A, B e C. Che vuol dire A uguale 10, B uguale 20, C uguale 15. Ci sono dei numeri qua intorno. Non mi sembra ci siano dei numeri qua. Questo mi sembra palesemente A, B e C che ci dice lui, però... Ok. 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 Stavo volendo da spostare con il piede il... Questo si ho già provato, non fa niente. Robin, idee? Questo... Ok, questi introduttori non funzionano, ma... Forse i nomi di questa scatola possono aiutarti? Eh, grazie. Ah, vabbè... Ma... B uguale 20. C uguale 15. Ok. Questo qui sarà 15. E A uguale 10. Niente. Ah, eccolo qua. Ma... Eh... Continua a non andare? E... Dove sto toppagliendo adesso? Ma... Mi sta a prenderli in giro, stavo cambiando i numeri. 15. Eh, vabbè... Quindi... 15 uguale C. 20 uguale B. 10 uguale A. Credo sia a posto. Credo anch'io, Robin. Quindi? Nulla? Troppo. Troppo. Sembra sia un po' che... Puttana! Polderlo! Ho la chiappetta e stretta, Robin. Siamo in due. Oh, Robin. Ti ucciso me stesso, ma... A volte... Potremmo un po' di aiuto... A volte... Ok. Dai, dimmi un po' che si vede lì. Sembra una specie di meccanismo, ma mancano degli ingranaggi. Allora, forse uno ce n'è lì? Qui? Troviamo. Fammi vedere. Ok. Sembra mancate. Tutto a posto. Bellissimo per qualcosa. Dai, vediamo un po' se ci cagliamo sotto di nuovo. Niente. Liscio. Così. Ok. Ok. Tieni. E' peccato che noi si parla poco. Cioè, anche un po' di interazione di... Sì. Lì. Sì. Ok. Sì. 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 Niente. Ok. Vediamo un po' sopra. Che ho messo un po' sopra. Sì. Vedì. Troppo. Niente. 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 Eh. Si riprova? Così? A caso, Robin? Paura? Ah. Paura, eh, Robin. Dai. Riccaghiamoci sotto di nuovo. Ma, eh... Quei pannelli mi sembrano tutti chiusi. Quindi... Eh, ho provato a usare... Ok. Ah, ok. Perfetto. Abbattava. Era abbastanza semplice. Tieni. Allora, a questo punto, si fa la parte del mano. Un altro. Perfetto. Oh, caputana! Por... Coppola! Dov'è andata a finire l'ingrenaggio? Perfetto. Eccolo lì. Tieni. Grazie. Caputana! Ok. Prova la leva. Ah! Sta andando soltanto te. Allora, il tuo legno è fermato. Guarda. Te? E io dovrei giocare a un horror inviare che è uscito lui e mi sono cagato sotto? Oh, il cazzo... Non ti posso neanche... Eh... Non posso fare niente. Che cosa faccio? Quindi? Che sta succedendo? Era tutto finito? Era uno scherzo di Joker? Ah, ok. Stiamo arrivando. Eccoci qui. Ah! Il bel penitenziario di Arkham! Croc... Croc? Come si chiama? Come si chiama? Non me lo ricordo. Quindi era tutto finito quello che è appena successo. Eh, vabbè. Sai lì. Stanno l'applicazione e tutti i diritti. Non ti spegne le luci. Sì, vabbè. Vieni qui. Ah! Mi aperto a destra. Un po' di pasticche. Qui. Ah, la tessera. Abbiamo per caso la testa di cache. Ma lì sopra... Ok. Non possiamo... Non possiamo prendere niente. Va bene. C'è la testa di cache che però appunto non c'è adesso. Era un cache. Allora si montano lì indietro. Che cosa si fa della tazza? A croc? Croc si chiama. Ecco. No, croc? No, croc è quello delle fullite dell'imperatore. Famiglia di cache. Questo. Ah. E' meno manco che è scelmi come ricordo. Quindi però la testina ci servirà. Qui ovviamente tutto quanto è andato a farsi benedire. è un po' troppo vicino forse. Ecco là. Si chiuderà? No? Forse... Prendiamo con il button anche. La tesserina... Ma adesso la faccio così? No. Niente. Anche qui secondo me ci si avvicina un po' troppo di colpo. Non sono arrivati lì. Posso andare a destra o a sinistra. Io qua... Oh, ciao. Non ricordo come ti chiami te. Chiudo perché è meglio. Non si sa mai. Perché qui... Basso sbircio. Non si sa mai te che ti... Zanga il pazzo. Che ti giri di colpo. Al Capone si chiamava l'altro mi sembra. Lui non mi scorda solamente come si chiama. Troppo. Ok. Come here. That's it. Allora non è cascata di testino. No. No. Io chiudo di nuovo. Eh, vabbè. Dai. Eh, vabbè. Quindi? Mi devo ancora avvicinare? Vedo prima cosa c'è sotto. Ok, non c'è niente. Dai. Cagliamoci sotto. Ah, ma è così vado via dall'aria? Chiudo. Si sa mai. Allora. Ecco, alla. Sapevo io. Allora. Ah, non è stato difficile, sir. Quando è rientrato? Al momento ho il problema di farci una bella domanda, ma c'è un problema. Ecco. Siamo quindi dentro. Nightwing. Cagliare. Tornare. Cagliare. Che faccio qui ha fatto questo. È un tempo. 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 Cagliare. No, non c'è quello che ho. Qualcuno ti ha trattato? Come ti ha vissuto? L'ultima notte... L'ultima notte... Uno dei miei ragazzi volta al club. E' assicurato. Dice che ha visto il tuo ragazzo. Dice che sei dopo lui. L'ultima notte... Dice che ha detto... Prima che un uomo gli ha vissuto... E poi ci sei sempre. Quindi? Ma io non posso fare niente. Il tuo uomo era veloce e forte. Ma non c'era il motivo che ti ha vissuto. Vissero esattamente come combattere. Ecco, qui siamo. Un'altra volta. Come ti ho capito? Noi ragazzi... Siamo in 7... Ho qualcosa per te... Ok... Troppo vicino anche te... Un tipo di... Un tipo di Joker. Un tipo di Joker. Caputana! Però mi scoppio il cervello. Anche qua... Troppo! Eh... Va bene. Oh! Il DYNAMIC DUO! Insieme alla fine! Che... 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 L'acceleramento è sbloccato. Io spero che sia tutto registrando, vero? Di registro, li sembra stia... Registrando... Sotto registro... Bartman a cambiare... No! Fine? Come fine? Come fine? Come fine? No! Ma... Ma... Cioè... Non mi potete... Fare questo? Stavo veramente... Emozionandomi... E per emozionandomi... Intendo... Cagandomi sotto... La sensazione che stava richiudendo la stanza era... Era pazzesca. Cioè... Mi lasciano con la mano in bocca. Non si sa... Cioè... Siamo stati noi a... A uccidere... A uccidere Natmin? Siamo stati noi... Che ci è scoppiato il cervello... L'abbiamo... E lo abbiamo... Ucciso? Robin? Che fine ha fatto? Morto? Questo pezzo non lo fu? Ne era pazzesco. Sembrerebbe proprio di sì che sia finito. Vediamo dopo i titoli di coda se c'è qualche cosa, però... Peccato se finisce così. Va bene che dovrebbe essere breve. Un po' troppo. Cioè... Sono stato io a mandare le lunghe... E... Esplorando un attimo. Testando un po' Il VR con i move. Essendo la prima volta. Però... Ho avuto i problemi dall'auditorio. A finire proprio così. Cioè... Che mi butti... Al clou della storia. Quindi si incomincia... Il Joker incomincia un po' a entrare nella nostra testa. Ci fa credere cose. Ci ha fatto credere. Che voleva dire? Mi sono perso qualche dialogo. Può essere. Mi sono perso anche il dialogo. Era distratto. Vediamo un po' se c'è qualche cosa... Qualche cosa nella storia. Dopo i titoli di coda. Vediamo. Se mai vedo un po' di accellerati questi per voi. Se mai vedo un po' di accellerati questi per voi. Ma no retirement è un po' di accellerati. Non sono stati un po' di accellerati nei Due. Orando nell' obrigi nel Covid. Orando spessi nel strolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel montaggio mi riguarda un po' i dialoghi perché se ho paura di essermi li persi quindi... Da quello che credo io... Ah, anche qui è troppo vicino secondo me... Ah, comunque un po' di cose ci sono da sbloccare... The Joker... Quanto... Te secondo me sei il personaggio più bello che abbia mai creato... Tutto, videogiochi, fumetti, tutto, sei troppo bello te... Nob, ignoto, alias Joker, biografia, criminale anarchico... Cicatrici, segni particolari, pelle pallida e capelli verdi... Beh, purtroppo sta cosa sui capelli mi sembra... Deciduto... Eh, si sti gran cazzo, deciduto... Beh, preleviamo un po' di mossa e due... Cicatrici... Un po' di mossa... Cicatrici... Eccatrici... Un po' di mossa... ma io qui c'ho la cosa, bella la sapuletta ok, non capisco se se cioè, oltre a trovare i genigmi dell'inginista eh, sì vediamo un po', oltre a trovare un po' gli enigmi semmai si continua un po' trovando i genigmi ah, no eccellente eccellente grazie no no ecco Asimus migliore il punteggio 20, eh termina simulation ended enigmania allora vediamo un po cosa che si può fare voglio provare a fare un attimo una cosa così ho visto che funzionava ed è veramente una figata perché quello che non abbiamo fatto in un'altra volta è analizzare i sangue i sangue il sangue il nostro qual è questo quale senza etichetta perfetto a non c'è nient'altro e niente ragazzi sembra proprio che abbiamo finito ah bisogna prima passare la scelta di fuoco ma vabbè vediamo un po quello che cosa ci dicono perché personaggi da sbloccare l'abbiamo visto anche prima ci sono dei diversi quindi questi qui sono tutti quanti sangue infetti dal virus di Joker peccato peccato veramente è durato nulla Cristina Bell sample analysis infected with the Joker's contaminated blood current status wanted for the murder of 11 queen industries board members anche questo ci avevamo accolato alla centrifuga analizziamo anche gli ultimi vediamo un po poi direi di chiudere l'episodio qua un vero peccato sono rimasto ci sono rimasto male parte ancora un po di cose ci andiamo da fare che può trovare di un'immigrazione a vedere un po come funziona questa cosa ho trovato una città potenza volendo lo possiamo platinare però si decide di platinarlo e qui poi c'è la questa è sempre la carta di Joker ci sono rimasto abbastanza male allora vediamo chi piazzina quella era forense quella non importa che cosa era ah ok questo si l'ha visto l'altra volta which si 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 è visto si è visto Ehm, bad computer, bad computer? Forse ancora bad computer? No. Ah. No. Ah, ok, si, si. Ok, ok. Eh, vedi, abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Undici personaggi ancora da sbloccare. Quindi, quindi bene. Bene. No. Non volevo te. Quattro, va a caverna. Perfetto. Ehm, niente. Allora, direi intanto di chiudere l'episodio. La rana, archivio, sorveglianza, va bene. Direi di chiudere l'episodio, l'episodio qua. Bad garage. Ma vediamo se ci abbiamo forse qualche veicolo da sbloccare? Eh, vedi, ci abbiamo ancora un po' di veicoli da sbloccare. Un, due, tre, quattro, cinque. Eh, mi sono già dimenticato quanto ne avevamo dall'altra parte. Cioè, non, qui sono cinque veicoli da sbloccare. Più gli altri personaggi da sbloccare. Lo, lo riprendiamo, lo riprendiamo. Dai. Allora. Su. Ecco. Vedete? Non notandolo. Ecco. 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 Va bene. Qui c'è una freccettina su, mi sa molto, di deve chi mi sta la cosa. Allora, perfetto. Allora, ragazzi. Eh, abbiamo finito Batman Arkham Vial, sembra. Però, vediamo un po' se, se lo, lo, lo platiniamo. Potrebbe, potrebbe anche starci. Vediamo, vediamo un po'. Vorrei sbloccare tutti i personaggi che abbiamo visto e anche, anche i veicoli. Quindi, forse, lo dobbiamo platinare. Quindi, niente, ragazzi. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Io sono Itami. Questo è Batman Arkham VR. Alla prossima. Grazie mille.